benvenuti su mit dolcino io sono simone mariam con me condurrà l'intervista roberto collaboratore di mit dolcino che già tutti conoscete sono lieto di presentarvi oggi il professor nino galloni economista e scrittore salve professor galloni come sta bene bene economista di chiara fame visto che si avvicina l'ora della cena giustamente io la ringrazio molto per aver accettato il nostro invito è veramente un onore poter parlare con lei allora io aprirei l'intervista chiedendole parlando un po degli ultimi tempi che sono stati un po caratterizzati dalla dalla narrazione di questa pandemia diciamo ma sullo che sta un po sullo sfondo però non è mai scomparso il problema economico finanziario non solo nel nostro paese ma è poi tutto il mondo ecco è come se fosse stato posto un velo soprattutto ciò col periodo che col pericolo che in qualsiasi qualsiasi intoppo potrebbe squarciare diciamo questo velo almeno questa è la sensazione che noi abbiamo lei cosa ne pensa cioè cosa pensa della chiusura delle attività degli impedimenti a causa della pandemia potrebbe avere senso per fermare la domanda ed evitare o contenere una salita dei prezzi al consumo che comunque stiamo vedendo allora una piccola premessa in un mio libro recente mi pare fosse l'altra moneta perché in questa situazione ne scrivo più di quello che sia possibile leggere e prevedevo che ci sarebbe stata un'emergenza e ovviamente sbagliandomi prevedevo che sarebbe stata un'emergenza ambientale o sociale vista la eccezionale performance di Greta Thunberg di cui stimavo di lì a poco una caduta rovinosa che poi avvenne e che ci sarebbe stata quindi un'altra emergenza di carattere sociale perché prevedevo l'emergenza perché non vedevo per il sistema nessuna via di uscita in quanto la principale soluzione ai problemi del sistema cioè la immissione di moneta non a debito per la cronaca di Narnia da parte dello Stato che non ha nessuna limitazione ad esercitare la sua sovranità monetaria perché il fatto che esista l'euro ad esempio non è assolutamente un problema diventa una moneta parallela perché la moneta dello Stato ha circolazione a corso legale solo all'interno del territorio dello Stato stesso perché si doveva perché diventava la soluzione e non solo un'opzione la moneta non a debito come nel passato perché a differenza del passato oggi abbiamo un'economia che non può reggersi più sul debito perché non può più essere per una stragrande maggioranza di casi un'economia di profitto mi spiego ci sono comparti produttivi dove il profitto va benissimo si guadagna quello che si vuole e parliamo grossomodo delle imprese quotate in borsa ma tutto il resto che è la gran parte dell'economia come sto cercando di dire invece si basa già ormai su regole diverse per esempio le nostre eroiche piccole imprese che peraltro esportano e quindi sono efficienti tuttavia il profitto non lo realizzano più da tempo di 4 milioni e mezzo di piccole imprese ce n'abbiamo 4 milioni che profitto non ne fanno più da tempo però sono efficienti voi pensate che ci sono dei giovani che senza obiettivi di profitto ma si tratta di imprese economicamente valide sono tornati alla terra e ci hanno fatto risparmiare 40 miliardi di euro di importazioni parliamo dei giovani che sono tornati all'agricoltura che ci danno il biologico e il biodinamico poi adesso noi italiani ci stiamo riconvertendo dal cibo spazzatura al cibo buono e questo ovviamente è un elemento fondamentale ora cosa voglio dire che la domanda di beni e di servizi da parte della popolazione che si potrebbe attivare diverse condizioni economiche invece ristagna perché le condizioni di mercato non possono essere rispettate cioè il fatturato di molte attività produttive è più basso del costo che poi il lavoro parliamo dei servizi di cura delle persone dell'ambiente del patrimonio esistente queste condizioni l'unico modo per uscirne vivi è quello di mettere la moneta non a debito dello stato qual è il problema della moneta non a debito dello stato e di cui la mia previsione che profezia che poi ci sarebbe stata una pandemia già no scusa che poi ci sarebbe stata un'emergenza non avevo previsto che era una pandemia sanitaria pensato a un problema sociale un casino sociale perché perché questa moneta non a debito che lo stato potrebbe mettere subito come dicevo prima senza problemi questa moneta crea una difficoltà a livello mondiale e cioè che dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che le banche non servono più che i poteri finanziari non servono più che si debbono mettere da parte dopo centinaia forse migliaia di anni di governo dell'economia quindi questi ultimi i poteri forti finanziari non sono in grado per la prima volta nella storia di indicare la soluzione possono solo dire come entrare uscire dall'emergenza il grande interprete di questa soluzione parziale è mario Draghi che dice dobbiamo indebitarci di più di più e di più e poi cancelliamo il debito poi si dimentica quello che aveva detto e ci va a indebitare con chi il debito non lo cancellerà mai cioè l'unione europea invece ci poteva indebitare con la bce che bene o male retrocedeva i debiti alla scadenza alla banca centrale italiana cioè la banca d'italia che faceva finta di niente finiva non il cestino oppure meglio ancora come diceva il piano di salvezza nazionale proposto prima dell'inizio della pandemia poteva indebitare gli italiani quindi era una partita di giro gli italiani compravano i titoli del debito pubblico quindi lo Stato si indebitava con gli italiani e quindi poi alla fine per gli italiani era un vantaggio perché avevano un interesse e poi da godersi e poi gli si garantiva la liquidità la liquidazione di questi titoli se avevano delle emergenze ovvero dei benefici fiscali che li invogliavano a fare questa operazione non ci dimentichiamo che il risparmio in Italia è molto molto superiore è un multiplo del debito pubblico quindi prevedevo che ci sarebbe stata questa emergenza invece invece no invece c'è stata l'emergenza non era sociale sì si può dire che è sociale perché la sanità è un problema sociale io tra le altre cose quando il ministero del lavoro era tutt'uno col ministero della sanità e si chiamava ministero dell'Uefar ero direttore generale quindi di quella cosa lì quindi posso dire che non ho sbagliato troppo la previsione però non pensavo che sarebbe stata una cosa sanitaria invece è stata è stata una cosa sanitaria fatta questa premessa non mi ricordo più qual era la domanda allora la domanda era era cosa ne pensa di questo di questo velo che è stato messo della narrazione sì sì già nascondere il problema economico sto dicendo che il covid c'è il problema c'è le pandemie si sa che nella storia si sono sempre manifestate così prima si sono ammalati in modo catastrofico gli adulti poi la pandemia ha cominciato a scemare e il virus ha cominciato a contagiare i bambini bisogna proteggere i bambini quindi erano stati inventati i vaccini e quindi insomma più o meno se poi si affievoliva diciamo così il virus ed è quello che probabilmente succederà a partire dalla primavera prossima nel frattempo c'è tutto questo panico di cui la causa profonda come avrebbe detto Polibio è quella che ho detto prima la causa materiale è che bisogna vendere i vaccini a tutti quanti anche se non sono vaccini anche se potrebbero fare più male del virus e poi arriveranno i veri virus cioè il virus attenuato che viene inoculato per favorire le difese immunitarie mentre quelli che adesso ci stanno inoculando sono cose a base genetica in cui si addestra il sistema immunitario ad attaccare un solo dettaglio del virus e quindi il virus che non è cretino muta e perciò i vaccini non funzionano e ogni tre mesi ci dobbiamo vaccinare Certo, certo, non è una situazione molto confortante ecco Secondo lei la lista dei prezzi al consumo, la salita dei prezzi al consumo è figlia di una distruzione programmata delle catene di approvvigionamento o secondo lei c'è dell'altro dietro? Sicuramente un aspetto fondamentale è quello lì che hai citato per motivi logistici, di programmazione eccetera che poi era stata parametrata in base all'emergenza sanitaria e al calo della domanda dovuto all'emergenza stessa quel 10% in meno che abbiamo visto quindi che poi l'inflazione possa andare verso il 10% è semplicemente la parametrazione dell'equazione meno 10% dal lato che determina man mano che la domanda aumenta un aumento dell'inflazione fino al 10% non è una cosa di cui stracciarsi le vesti solamente di preoccuparsi che le autorità invece di vedere il problema dell'approvvigionamento che ne so, del legname, degli altri materiali di costruzione mentre sta parlando il piano del 110% non si preoccupa di quella circostanza quindi la vedo una cosa molto preoccupante perché chiaramente aumenteranno i prezzi molto di più nel comparto delle costruzioni cioè in quello che si sta sviluppando di più per via di questa ottima idea del 110% non seguita da atteggiamenti coerenti da parte delle autorità che dovranno preoccuparsi dell'approvvigionamento di materie prime e semilavorati per sostanziare queste attività nel campo dell'edilizia Ok, Roberto passo a te la palla Va bene, va bene io intanto saluto Nino Galloni parecchio tempo che non lo vedo mi fa piacere moltissimo rivederlo in questo frangente dove purtroppo non possiamo che comunicare a distanza perché le nuove regole ci chiudono quasi in casa E basta con queste regole dobbiamo riunirci di persona magari rispettando delle precauzioni perché il virus c'è però non si può sottostare a questo ricatto continuo comunque andiamo avanti con questo Zul Assolutamente, io sono d'accordo ma è sempre molto difficile riuscire a far funzionare le cose Allora, stavo pensando ma il mostruoso debito mondiale che comunque c'è e lo sappiamo anzi in un tuo libro l'avevi indicato come se non sbaglio più di 50 volte il PIL mondiale Esatto Ma tutto questo debito fa paura al sistema finanziario di potere e in qualche modo lo stesso sistema sta tentando di smontarlo? Allora, la mia tesi è che non sia un problema per loro perché l'unico problema per le attività finanziarie è quando manca la liquidità quindi quando io debbo gestire una marea di titoli come hai ricordato tu multipli, decupli, quadruplici parliamo di 54 PIL mondiali di titoli tossici però tutto questo che corrisponde a una bolla finanziaria sicuramente senza precedenti però la crisi per loro è quando non hanno più la liquidità per gestirla quel 3-4% del totale che poi sono 2-3 PIL mondiali e allora salta il sistema ma il sistema non salta perché le banche centrali dal 2008 hanno varato la nuova teoria economica per cui esse immettono quantità illimitate di moneta a corso legale si prendono i titoli tossici che hanno subito l'allungamento dei termini per cui io parlo di collateralizzazione li mettono nei loro attivi tanto poi li cancellano e al passivo emettono moneta corrispondente illimitatamente in base alle esigenze delle banche eccetera eccetera la condizione perché questo giochino funzioni è che non arrivi niente o quasi niente all'economia reale che infatti è in crisi di liquidità ma l'economia finanziaria non è in crisi di liquidità finché non c'è la crisi di liquidità dell'economia finanziaria quest'ottima può aumentare a cento, a mille volte il PIL, la realtà poi dopo certo alla fine ci sarà una fine perché verrà il crampo al dito del governatore della banca centrale o qualcuno deciderà che bisogna aumentare i tassi di interesse e ridurre questa esposizione delle banche stesse centrali rispetto ai debiti ma questo ovviamente è possibile ma per ora non avviene se ne guardano bene loro continuano il comparto finanziario è uno dei pochi comparti che assorbe occupazione da altre retribuzioni va benissimo ho capito grazie questo però è un continuo tirare il fatto sociale perché comunque il comparto finanziario riceve i soldi dalle banche centrali il comparto reale dove noi viviamo si affatica sempre più a tirare avanti e chiudere la fine del mese nel caso uno viva di stipendio e questo fatto sociale presto o tardi dovrà essere in qualche maniera riportato ad un equilibrio secondo me ad un equilibrio più umano ma a parte questo pensavo pensi anche tu che siamo all'alba di un nuovo inevitabile modello economico per il fallimento di quello precedente e se sì secondo te quale modello economico intravedi? Allora ci sono due aspetti da considerare il primo che la cura dell'emergenza attraverso l'aumento dell'indebitamento produce una immissione di moneta nell'economia reale adesso noi non sappiamo se questi 225 miliardi che arriveranno se arriveranno ma dovrebbero arrivare perlomeno ci siamo indebitati per essi giungano appunto che ne so ai lavoratori alle famiglie alle imprese se ciò accade ci sarà ovviamente un aumento della domanda con l'aumento della domanda se dall'altra parte ci sarà un aumento dell'offerta registreremo una crescita economica che farà gridare a loro signori ce l'abbiamo fatta siamo fuori e viva il sistema funziona in realtà secondo i miei calcoli molto approssimativi ma di più non posso fare perché non ho un centro di ricerca con centomila algoritmi e centomila macchinari che se noi dividiamo la popolazione italiana in tre in tre terzi quelli che stanno peggio quelli che stanno a galla e quelli che hanno migliorato sappiamo che per esempio il 10% di riduzione del PIL dell'anno scorso ha significato un peggioramento del 20% per un terzo per 20 milioni per gli italiani un miglioramento del 10% per quelli più fortunati e una stabilità per gli altri 20 milioni quindi in buona sostanza visto che mi parlavi di patto sociale bisogna vedere se in qualche modo arriveranno risorse chiamiamole risorse a quei 20 milioni più poveri allora tutto sommato potrebbe darsi ma per mantenere le distanze e quei 20 milioni che non modificano la loro situazione ma quei 10 milioni che quei 20 milioni che la migliorano notevolmente non ce n'è per quei 20 milioni che sono sempre più poveri però se quei 20 milioni che sono sempre più poveri accettano vaccinazioni mascherine green pass eccetera eccetera il sistema regge perché vuol dire che poi alla fine la gente stringe la cinghia mangia di meno non paga il mutuo ma qualche aiuto gli arriverà non si sa quale qualcuno magari si inventerà che perdono la casa ma ci possono rimanere dentro finché non muoiono e cose del genere e il sistema può andare avanti allora è chiaro che la soluzione dovrebbe essere quella di un cambiamento politico ma non lo vedo all'orizzonte anche perché il Movimento 5 Stelle in cui abbiamo creduto e che abbiamo sostenuto fino a un certo punto ci ha tradito in modo catastrofico quindi il problema qual è? che sicuramente il modello capitalistico ancora attuale grosso modo per le imprese quotate in borsa non lo è più per tutto il resto dell'economia che è la gran parte soprattutto quella potenziale perché noi dobbiamo fare investimenti nell'ambiente dobbiamo fare investimenti sulle persone dobbiamo fare investimenti per il recupero del nostro patrimonio esistente non ultimo quello archeologico artistico eccetera eccetera perché è lì che si creano i posti di lavoro noi potremmo creare 7-8 milioni di posti di lavoro con moneta non a debito valorizzando questi tre comparti dei servizi di cura delle persone dell'ambiente del patrimonio esistente compresa l'archeologia e bla 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 però non lo facciamo non lo facciamo perché continuiamo a dire non ci sono i soldi adesso paradossalmente arrivano soldi che sono a debito quindi poi ci creeranno degli altri problemi in futuro soprattutto perché come dicevo all'inizio non ci siamo indebitati con la BCE ci siamo indebitati con l'Unione Europea che nella migliore delle ipotesi ci chiederà fino all'ultimo centesimo nella peggiore più probabile comincerà a dire che non siamo crediti ci abbasserà il rating succederanno dei casini indescrivibili per cui se per tempo non attrezziamo un'agenzia di rating nostrana per nostrana intendo anche europea ovvero non ci preoccupiamo di offrire ai nostri concittadini che hanno la possibilità l'acquisto di questi titoli non ne veniamo fuori vivi infatti abbiamo un milione e trecentomila persone che in percentuale della popolazione è il caso unico mondiale le quali possiedono oltre cinquecentomila euro di cui non sanno che farsene in liquidità stanno lì buttati lì nelle banche non sanno cosa farne sono preoccupati adesso guardano le criptovalute quello sarà un'altra tragedia in corso probabilmente o può darsi che funzioni adesso questo dovremmo studiarlo in modo più appropriato ma temo che poi ci sarà qualche bagno di sangue e comunque per i risparmiatori come al solito comunque avremmo questa grossa come dire fonte di soluzione che è vendere il debito pubblico agli stessi italiani come diciamo quindi è chiaro che noi dobbiamo creare una nuova economia diciamo così post-capitalistica con una moneta non a debito però ripeto l'ostacolo a questa nuova economia è soprattutto dato dal fatto che spiazzerebbe i vecchi potentati finanziari i vecchi gli attuali potentati finanziari che non avrebbero più senso e a quel punto questi ultimi cercano qualunque linea di resistenza si inventano qualunque cosa però l'alternativa c'è perché si tratta di riorganizzare sul territorio delle comunità autonome cioè che non hanno bisogno degli euro o semi autonome che usano in parte euro in parte moneta locale o complementare valorizzare le nostre capacità produttive e vedere se ne viene fuori anche un progetto politico certo certo grazie Roberto tu hai vuoi fare un commento finale sulle parole del professore ma si farei un mi sentite tra l'altro si si ti sentiamo particolarmente farei si un minimo di commento perché parlavo proprio con dei gruppi locali qualche giorno fa in altri consensi di economia si parlava di piano di lavoro garantito cioè lo stato garantisce appunto dei lavori di carattere locale come ad esempio la cura del territorio e altre cose in questo modo fa sì che la popolazione si porta al piede impiego e aumenti la domanda potrebbe essere un'equivalenza a quello che dicevi cioè della moneta non ha debito che il problema sta tutto nella parola stato io ho creduto per decenni nello stato sono stato un funzionario dai primi livelli di carriera fino agli apici notoriamente però oggi certamente non consiglierei a mio figlio di entrare nella pubblica amministrazione ne penso che avrebbe la minima idea di farlo ma questo è un altro discorso però ormai è completamente occupato da portaborse delle multinazionali che vanno lì per fare un po' di lobbying e cose del genere quindi è un po' un mezzo disastro ecco quindi purtroppo forse bisognerà ripartire dalla base e ricreare uno stato che siamo noi applicando la costituzione se è del caso perché io sono d'accordo con Mauro Scardovelli e con tutti quelli che difendono la costituzione però d'altra parte mi rendo conto che questo è lo stato dell'arte e quello che è lo stato in questo caso con la S minuscola grazie mi hai chiarito il punto grazie grazie mille se vuoi dire qualcosa tu Simone allora io prima di tutto volevo ringraziare il professor Galloni per l'intervista che ci ha dato e per le informazioni che ci ha concesso ecco oggi diciamo che la situazione a quanto pare da come l'ha descritta il professor è piuttosto grave perché sembra sembriamo un pochino sembra che siamo in una sorta di cul de sac perché le istituzioni ti corrego se mi consenti sì sì prego i cul de sac sono i grandi personaggi del pianeta quelli che vanno sempre in tv i grandi potentati finanziari eccetera perché è loro che non hanno la soluzione noi siamo in una specie di limbo dovuto al fatto che non cresce a sufficienza la consapevolezza e la coscienza della gente però ci sono milioni di persone grosso modo che si capisce da tutta una serie di statistiche più o meno manipolate che esiste i quali milioni di persone in effetti potranno cominciare il cammino attraverso il Mar Rosso o verso la Terra Promessa mentre gli altri faranno quello che vorranno e questo è e continueranno a subire quindi nel cul de sac in effetti noi dobbiamo vedere l'aspetto positivo noi non siamo nel cul de sac noi siamo in una situazione di condizionamento per cui non capiamo che c'è la soluzione lì a portata di mano anche di una crescita umana spirituale delle coscienze eccetera tanta gente non ce la fa e non ce la farà e la perderemo ma chi sta nel cul de sac sono i potenti della Terra che non possono più dare le soluzioni non sanno dare le soluzioni sanno solo gestire creare e sottoporci a emergenze paure eccetera condizionamenti vari e però il loro destino dal punto di vista della storia a mio modo di vedere è segnato in ogni caso il problema è se noi andiamo a morire con loro oppure se troviamo un'altra strada sono contento della correzione che ha fatto perché ha lucidamente espresso anche parte del mio pensiero sono d'accordo con lei che ci siano milioni di persone che in un modo o nell'altro con le loro esperienze magari in maniera differente hanno compreso cosa sta succedendo e il problema è vero sono questi potentati che non riescono a proporre soluzioni forse non vogliono perché forse a loro va bene questo loop continuo di disperazione per noi e magari per loro no perché per loro va bene loro continuano a fare i loro affari perché come ha spiegato lei prima il mondo della finanza è un mondo nel quale non mancano assolutamente risorse assorbe lavoro paga molto bene quindi loro vivono in questa bolla fregandosene però la storia come ha detto lei la storia spesso non risparmia questo tipo di personaggi anche perché la storia secondo me è un fiume a volte è sotterraneo non si vede altre volte esce improvviso e travolge tutto quindi noi non possiamo sapere veramente la direzione della storia nonostante questi potentati vogliano dirci dove sta andando la storia loro vogliono in qualche modo deviare la storia dove vogliono loro ma io non sono d'accordo totalmente con lei non credo che credo che siano già condannati comunque bisogna vedere come e quando tutto ciò succederà e soprattutto se noi che abbiamo capito sapremo cogliere quei segnali che la storia ci darà eventualmente e sapremo far rinascere un mondo probabilmente più a misura d'uomo un mondo che non basi tutto se stesso sul profitto ecco diciamo questa è la mia opinione io la ringrazio molto per l'intervista che ci ha che ci ha dato come dicevo prima è un onore aver parlato con lei se vuole se ha qualcosa da aggiungere lo può fare molto volentieri ecco se vuole aggiungere un messaggio qualcosa prima mi auguro che nel 2022 si chiarirà una serie di questioni cruciali che consentiranno alla gente di capire quanto è stata ingannata e conseguentemente come potrebbe riorganizzarsi per diciamo così sopravvivere nel senso nobile del termine cioè non la mera sopravvivenza che il sistema potrebbe anche garantirti in alternativa alla soppressione delle persone come è stato teorizzato anche da ministri di questo governo che hanno detto che il pianeta era programmato per non si sa da chi non si sa bene da chi per 3 miliardi di persone quindi o Dio si è sbagliato che chiaramente è una vecchia tesi di certi ambienti oppure non si sa chi abbia programmato per 3 miliardi di persone siamo diventati 7 quindi almeno 4 miliardi vanno soppressi ovviamente nessuno si candida alla soppressione tutti candidano il vicino a essere soppressi e questo fa sì che la previsione non sia veri certo certo allora io come dicevo prima la ringrazio molto e le auguro una buona serata arrivederci grazie ciao Roberto grazie arrivederci grazie 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 a tutti